Distruggi metano, distruggi l'obiettivo, cambiamo a Roma. L'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo. L'obiettivo, c'è l'obiettivo, cambiamo a Roma. L'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo. L'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo. L'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo. L'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo, c'è l'obiettivo. Helicottero in attesa. Compagni si innescata. Ottimo lavoro, compagni. Preparatevi al prossimo round. Cerca e distruggi veterano. Difendente obiettivo. Vai, da un altro in arrivo. Pissile predator disponibile. Sconfitti. Impegniamoci di più la prossima volta. Cerca e distruggi veterano. Difendente obiettivo. Compagni l'amico intimidato. E' un altro robot di aeronline. Assorbizionali in arrivo. Approvizionali per il nemico in arrivo. Retrobot disponibile. ... ... ... E' stato sbagliato! Umovi nemico individuato! Precrui mie per ieri giuris! Flago mi è! Grazie per la visione!